Adesso parliamo di Sasa, dopo dieci giorni di stop ripristina le corse notturne soppresse sulla linea 2. Aumenta la sicurezza per tutelare autisti e viaggiatori. Torneranno a viaggiare i bus notturni della linea 2 da Bolzano a Bronzolo. Dopo uno stop di dieci giorni, deciso dai vertici della Sasa, dopo l'aggressione subita da un autista, le corse delle 22.55 e 23.55 verranno ripristinate da domani, vigilia di Natale. Il presidente di Sasa, Stefano Pagani, ha tenuto a precisare che il venerdì e il sabato sera saranno presenti a bordo dei mezzi due uomini della security, uno in più rispetto al passato. Durante il resto della settimana, invece, mentre in precedenza non c'era il servizio di sicurezza a bordo, sarà sempre presente un addetto. Le contromisure per garantire l'incolumità di autisti e passeggeri riguardano anche i sistemi di videosorveglianza. Su tutti i mezzi, infatti, saranno presenti telecamere di sicurezza. Pagani ha tenuto a precisare che Sasa lavorerà anche in stretta collaborazione con le forze dell'ordine.